Il meglio deve ancora venire Sono Raka e sono un'insegnante della scuola elementare di Torino. Insomma, in questo ultimo periodo la scuola ha parecchi problemi di vario genere, dalle insegnanti di sostegno che sono venute meno, eccetera. Ma volevo portare un po' l'attenzione sulla sicurezza edilizia, perché in questo periodo le scuole sono sempre non messe bene e spesso si fanno delle richieste che vengono poi vagliate molto tardi, quindi con problemi poi abbastanza gravi. E anche per quanto riguarda la mensa, le quote mensa che sono abbastanza elevate, soprattutto per le famiglie che in questo periodo sono anche in situazioni abbastanza disagiate. Questi sono i punti un po' più forti, ce ne sarebbero tanti altri, ma insomma cominciamo da questi. Cominciamo da questi, andiamo bene. Allora. Allora.